giorno seconde lascio un breve riassunto di quello che si è detto stamani i complimenti retti della preposizione semplice in e ovviamente anche qui può esserci il predicativo cioè non sono soltanto lo stato in luogo o il moto al luogo ma sono diversi tipo il predicativo del soggetto, la principessa soggetto siamo a pagina 200 fu presa, predicato verbale, in moglie predicativo del soggetto perché si allaccia al soggetto, la principessa dal sultano, complemento da gente cosa che ho già detto, lascio per chi fosse stato poco attento o chi non fosse stato presente la lezione su Zoom predicativo dell'oggetto, gli indigeni vedete qui in moglie non è certamente un moto al luogo ma è semplicemente un predicativo del soggetto non è che la principessa si avvicina alla moglie eccetera gli indigeni offrirono un bue in sacrificio agli dèi il predicativo dell'oggetto, quindi i soggetti sono gli indigeni offrirono, predicato verbale, che cosa? un bue complemento oggetto in sacrificio il bue in sacrificio è un predicativo del complemento oggetto bue agli dèi e il complemento di termine dove termina l'azione finoscopo, puoi anche indicare la fine o lo scopo per cui si fa qualcosa la protezione civile soggetto a corse predicato verbale in aiuto cioè con lo scopo di aiutare in aiuto degli alluvionati degli alluvionati complemento di specificazione o mezzo strumento può anche essere mezzo strumento ovviamente la spedizione soggetto viaggiò predicato verbale fino al Polo Nord e muoto al luogo indirigibile con quale mezzo? con un dirigibile modo perché non te ne stai in silenzio perché non te ne stai tu soggetto sottinteso non te ne stai predicato verbale in silenzio vuol dire il modo in cui dovresti stare è in silenzio certamente può essere uno stato il luogo questo è il primo pensiero che ci viene quando le vediamo in la preposizione semplice abito in periferia io soggetto sottinteso abito predicato verbale in periferia e dove abito siccome ci abita uno stato in luogo ovviamente però potrebbe essere un moto al luogo ti piacerebbe andare in Perù ti piacerebbe piacerebbe a te andare in Perù qui vabbè qui è un po' il soggetto qui ci sarebbe quasi una soggettiva all'andare in Perù ma la lasciamo perdere perché non siamo nell'analisi del periodo andare in Perù sarebbe la soggettiva di ti piacerebbe a te piacerebbe che cosa andare in Perù quindi non vorrei entrare in questo argomento comunque in Perù è un moto al luogo andare in Perù verso in Perù è un moto al luogo qui sarebbero due frasi ti piacerebbe a te piacerebbe e il soggetto della prima frase è la seconda frase che è una soggettiva ma questo non l'abbiamo fatto perché nell'analisi del periodo però potrebbe essere un moto per luogo è piacevole passeggiare nelle aree è piacevole passeggiare quella stessa cosa è piacevole è piacevole sono due frasi è piacevole passeggiare nelle aree pedonali è una soggettiva la seconda frase passeggiare attraverso le aree pedonali è piacevole sono due frasi cosa fai di solito nelle vacanze estive tu soggetto cosa fai di solito predicato verbale nelle vacanze estive è il tempo determinato moto per luogo invece scusate nelle aree pedonali è moto per luogo perché dall'area pedonale magari vai verso casa tempo determinato nelle vacanze estive perché io nell'anno individuo il periodo di tempo in cui farò le vacanze non a Natale non hai vacanze estive tempo continuato e per quanto tempo io faccio un'azione corse egli soggetto corse la maratola mettiamo tutto insieme anche qui non lasciamo perdere in tre ore in quanto tempo in tre ore materia potrebbe essere introdurre un compimento di materia questo avviene molto spesso il pavimento soggetto piace predicato verbale ti a te il pavimento in legno in legno che il pavimento è di materia in che materia è fatta in legno limitazione io ti dico una cosa ma solo limitatamente a un certo argomento tu soggetto come te la cavi predicato verbale in analisi logica io ti lo chiedo ma in analisi logica non ti chiedo letteratura o antologia anche in italiano dovresti aver imparato in due anni non c'è solo l'analisi logica a parte ci dovrebbe essere un'analisi grammaticale io ti chiedo quindi limitatamente all'analisi logica come anche il complemento limitativo la preposizione semplice può introdurre diversi complementi studiate siamo veramente agli ultimi sgoccioli di quest'anno in realtà questo è un ripasso ripassate e poi decideremo sperando l'anno prossimo di rivederci vis-a-vis vis-a-vis anche con le mascherine come andrà a finire questa cosa ma questo l'uomo il professore propone e Dio dispone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti